Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi sul client integrative violation su Rust. Semplicissimo, un problema che si può risolvere direttamente nella cartella di Rust. Quindi andiamo un attimo su Steam, su Rust, proprietà di Rust, file locali, sfoglia i file locali. Andiamo nella sua cartella, cancelliamo la cartella EasyAntiCheat, la cancelliamo, chiudiamo la cartella e una volta fatto facciamo verifica integrità dei file di gioco. Poi una volta fatta la verifica di uscire a 26 file, 50 file, 100 file sono stati convalidati e verranno discaricati. Andiamo un attimo a fare su Gioco. Faccio preparazione all'avvio. Ecco che Rust si è avviato senza problemi, possiamo anche giocare in un server qualsiasi. Vedete se abbiamo altri problemi, ecco qua su, conoscete il server. E non ho nessun problema. Quindi spero tanto di essere stato d'aiuto in questa nuova guida e noi ragazzi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.